E' caduta una pianta qui dietro, sopra la linea telefonica e le condizioni sono ancora queste qua. Il filo è tutto arrotolato e noi siamo senza telefono, la mia ditta, una ditta vicina allo stesso di Termoide L'Aulica e famiglie anche. Il forte temporale dello scorso 16 agosto ha causato molti disagi alle linee telefoniche, come in questo caso in via Trentino a Bassano, dove il disagio continua però da quasi un mese, senza che nessuno sia ancora intervenuto per ripristinare la linea. Per esempio mia mamma che è anziana e che vive con mia sorella e senza telefono non sa usare il cellulare e logicamente è un mese che la possono chiamare nel cellulare ma se lei vuole chiamare qualcuno si trova in disagio. I disagi non si presentano solo per i residenti ma anche per le aziende circostanti che si trovano anche senza internet. Fortunatamente la sede dove abbiamo gli uffici adesso è in strada marchesana, però l'internet qui ci serve, serve per lavorare e non abbiamo niente come ce l'hanno l'internet che l'ha ditta vicino a noi che fanno termoidraulica e non hanno neanche loro l'internet che possono usarlo. Aziende che non possono lavorare nonostante le continue sollecitazioni. Dopo un mese non si può continuare a sollecitare alla Telecom che adesso ti hanno già detto un messaggio che è previsto la riparazione per il 28 di settembre, mi sembra proprio una cosa che non è normale. Ma se i problemi di questo genere sono ricorrenti, forse chi fornisce un servizio necessario alla cittadinanza dovrebbe studiare un nuovo metodo per assistere i clienti più rapidamente ed efficientemente. Se non ci danno una data di inizio lavoro, logicamente noi saremo sempre in questa situazione.